verga liliana segre covid le tracce d'italiano prima l'emozione le tensioni per l'attesa poi gli studenti hanno trovato molte delle tracce previste alla vigilia domani la seconda prova scritta toma possa il rischio dopo il voto sulla nuova legge non si gioca e non si fa politica sulla pelle delle persone lo ha detto il governatore a proposito della legge sulle linee guida in materia di sanità che mette in pericolo il piano operativo caro prezzi e guerra frenano la ripresa lo ha detto il direttore della banca d'italia di campo basso presentando il rapporto sull'andamento dell'economia nel pomeriggio l'intervento della vice direttrice nazionale per razzelli allarme siccità a lago meglio dell'anno scorso l'ondata di calore mette in pericolo molte colture a guardia al fiera la portata dell'invaso è superiore a quella del 2021 cavaliere siamo in contatto con il governo francesco bontà firma il rinnovo il capitano del campo basso resta in rosso blu per il quarto anno consecutivo oggi la chiusura delle iscrizioni da domani le carte all'esame della comisoc edizione delle ore 14 del nostro telegiornale buon pomeriggio e bentrovati un cordiale saluto a voi tutti dalla redazione di tele molise lo avete sentito dai titoli oggi è stato il gran giorno per circa 2500 studenti in tutto il molise sono partiti con la prima prova quella di italiano gli esami di maturità pascoli e verga per l'analisi del testo gerardo colombo e liliana segre per una riflessione sulle discriminazioni razziali ancora i cambiamenti climatici rischi della rete e il post covid sono queste alcune delle tracce all'uscita da scuola è andata a raccogliere per noi alcune testimonianze anna maria di matteo ascoltiamo la prima prova scritta degli esami di maturità quella di italiano è andata nelle tracce nedda di verga la via ferrata di pascoli un brano dal libro di liliana segre gerardo colombo ma non poteva mancare una traccia sul covid che ha segnato la vita di tutti noi e di questi giovani che oggi affrontano la maturità e la musica è lì per connessione con i suoi rischi rispettate dunque le attese della vigilia siamo andati a sentire la voce degli studenti all'uscita di scuola qui siamo davanti al liceo scientifico romita di campo basso i primi ragazzi escono poco prima delle 13 sollevati e soddisfatti che traccia avete scelto personalmente ho scelto la b1 quella su liliana segre le leggi razziali perché mi sentivo un po più preparato sul contesto storico eccetera quindi sono andato su quello sei stato tranquillo sì sì abbastanza tranquillo sia prima della prova sia durante la prova sì tutto tutto bene come è andata bene mi aspettavo tracce più complicate però erano tracce abbastanza fattibili molto sulle cose di attualità quale quale hai scelto ho fatto un testo argomentativo che riguardava i social network l'uso di internet e come i social ci stanno cambiando la vita chissà forse hanno voluto anche un po' agevolarvi quest'anno sì probabilmente sì ma oddio è andata bene anche se i temi erano un po scontati però alla fine tutto a posto cioè su sette tracce comunque una che si poteva fare comunque si trovava quindi tu le trovate scontate come tra no più che altro perché io per esempio ho scelto quella sull'ambiente che comunque non è una cosa molto diciamo diversa dal solito comunque penso che sia una cosa abbastanza scontata da da presentare all'esame il clima com'era all'interno della classe tranquillo no sì sì il clima era assolutamente tranquillo cioè comunque ero solo con i miei compagni di classe come se fosse una verifica normale durante l'anno scolastico normale devo dire che anche i professori sono stati molto tranquilli il presidente anche ci ha messo al nostro agio quindi assolutamente tranquillo ti vedo abbastanza sollevato sì 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 sono abbastanza sollevato anche perché diciamo che questo questo esame dopo cinque anni comunque devi farti trovare pronto senza ansia e senza pressione è un esame che arriva comunque dopo due anni duri insomma con la pandemia col covid eh sì due anni terribili perché non si è potuto di stare assieme e sono stato molto triste per questo e finalmente siamo stati assieme questo quinto anno anche con la gita ci siamo trovati molto bene davanti al liceo galanti alcuni ragazzi attendono i propri compagni chi esce all'aria di chi si è tolto un peso come è andata? tutto bene grazie ho scelto l'analisi del testo e l'ho trovata abbastanza facile molto discorsiva quindi tutto bene in generale come le trovate le tracce? allora c'erano alcune erano un po' dure diciamo nella spiegazione nell'esposizione però in altre molto facili molto discorsive potevi comunque ampliare sull'argomento quindi bene tutto bene avete dovuto indossare le mascherine? no alcuni li hanno indossati altri no facoltativo diciamo la seconda prova di domani invece in che cosa consisterà per quello riguarda il tuo indirizzo? diritto ed economia sei tranquilla sei preparata? sì 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 un po' più finanziato comunque però bene e torneremo sugli esami di maturità nel corso del nostro telegiornale adesso apriamo una finestra sulla politica perché a due settimane dall'approvazione da parte del consiglio regionale della legge che detta le linee guida in materia di sanità parla il presidente della regione commissario ad acta per la sanità Donato Toma dice è a rischio il POS l'adozione nei tempi previsti 2022-2024 e soprattutto sul piano politico non si gioca non si fa politica sulla pelle delle persone col tema della sanità ascoltiamo il servizio dopo due settimane di silenzio il presidente della regione commissario ad acta per la sanità Donato Toma interviene sulla recente legge approvata dal consiglio regionale che disciplina le linee guida in materia di sanità non si fa politica con la salute delle persone dice Toma sollevando perplessità sul provvedimento La norma come tutte le norme della regione Molise verrà attenzionata dal governo vedremo cosa ne pensa il governo certo ci sono prima faccia dei profili di incostituzionalità però non sta a me come commissario ad acta giudicarla sotto questo profilo lo farà il governo c'è una normativa del 2009 che prevede qual è la procedura per le norme che eventualmente siano in contrasto col piano di rientro ed è una procedura che pone al consiglio dei ministri l'onere di giudicare la norma e di attuare eventuali provvedimenti spero che non siano provvedimenti seri, gravi avendo il governo 60 giorni per osservare la legge salta l'adozione del piano operativo sanitario 2022-2024 prevista a giugno uno stop che non fa bene alla sanità molisana e che manda il provvedimento all'autunno io temo un rallentamento del piano operativo perché dovrò attendere l'esito di questa norma prima di poter completare il piano operativo le dico che politicamente invece il giudizio politico è che io sono istituzione, sono presidente di questa regione non posso giocare con la salute dei cittadini, devo essere molto prudente, molto attento rimettere le decisioni a chi ha commissariato la sanità e quindi attendiamo le determinazioni del governo non si fa politica sulla pelle della gente, sulla sanità, si fa amministrazione per conflitto di interessi tra il ruolo di presidente e quello di commissario la legge sulla sanità verrà promulgata dal vicepresidente della regione Vincenzo Cotugno e adesso passiamo al bollettino dell'ASREM con i dati covid di Molise continua ad aumentare il numero dei positivi riscontrati che sono 269 su 1173 tamponi refertati 65 i casi che riguardano Campobasso 23 sono invece quelli di Termoli numeri inferiori negli altri comuni interessati tasso di positività al 22,9% sono 127 i guariti da registrare 5 ricoveri in malattie infettive e una dimissione dallo stesso reparto al momento salgono a 13 i pazienti con covid in cura al Cardarelli dei quali sempre due in terapia intensiva gli attualmente positivi nella nostra regione sono 1937 e questa mattina la Banca d'Italia ha presentato l'annuale rapporto sull'andamento dell'economia regionale il PIL cresce come nel resto delle regioni del sud ma è sotto la media nazionale la ripresa post pandemia è ora rallentata dal caro prezzi e dalla guerra in Ucraina il servizio è di Enzo Luongo Nel corso del 2021 l'economia in Molise è tornata a crescere dopo la flessione dell'anno precedente a causa della pandemia ma la ripresa subisce ora un freno per l'aumento dei prezzi e le tensioni dovute alla guerra in Ucraina e quanto emerge dall'annuale rapporto della Banca d'Italia sull'andamento dell'economia regionale presentato stamattina a Campobasso Nel 2021 abbiamo osservato come il comparto dell'industria aveva anche recuperato il calo dell'anno precedente superando anche i livelli pre-pandemia così come anche nelle costruzioni anche sulla spinta delle incentivazioni fiscali per le ristrutturazioni un po' meno bene sicuramente il comparto dei servizi che in maniera più significativa aveva risentito delle restrizioni alla mobilità emanate durante la pandemia ma anche per i servizi qualche aspetto positivo comunque lo osservavamo sia nella ripresa dei consumi anche nell'andamento della stagione turistica sicuramente però sull'andamento dei servizi pesa molto anche un po' il deteriorarsi del clima di fiducia che un po' in generale caratterizza e connota un po' le prospettive economiche L'aumento del prodotto interno lordo in regione è stato del 5,9% analogo a quello del mezzogiorno ma inferiore alla media nazionale ha contribuito all'incremento la prosecuzione nella crescita delle esportazioni trainate dal comparto auto e da quello dei prodotti chimici le imprese hanno recuperato la forte riduzione del fatturato registrata durante la prima fase della pandemia I dati più negativi? Sicuramente ancora non abbiamo potuto osservare sul mercato del lavoro una piena ripresa dei recuperi occupazionali purtroppo c'è stato un calo ancora dell'occupazione anche perché in Molise è un po' più significativa l'incidenza dell'occupazione autonoma e c'è comunque anche un forte ancora ricorso agli strumenti di ammortizzatori sociali che insomma hanno comunque consentito di attutire gli impatti negativi della pandemia Una coalizione che vada oltre i due poli classici abbia come punto di riferimento la Costituzione e questa l'idea che il Movimento Azione Civile lancia in vista delle prossime elezioni regionali del 2023 a lavorare in questa direzione in Molise Nicola Lanza, coordinatore regionale del movimento fondato dall'ex magistrato Antonio Ingroia Noi siamo a disposizione, dice, per fare da collante a cittadini e movimenti civici che convergano su questa idea nelle prossime settimane verranno sviluppati incontri specifici sul tema E adesso ritorniamo agli esami di maturità e vediamo che cosa hanno dichiarato gli studenti questa mattina prima di scoprire le tracce siamo andati a Campobasso al liceo classico Mario Pagano Ascoltiamo Com'è andata la notte prima degli esami? Notte sicuramente piena di emozioni si ascoltano Nello Venditti si mette davanti in scuola magari a stappare lo spumante per chi l'ha fatto, per i più coraggiosi sicuramente è una bella notte è una notte felice perché comunque abbiamo andato tutto noi stessi in questo percorso e come va poi l'esame Che cosa vi aspettate? Aspettarsi qualcosa è difficile effettivamente perché il ministero sorprende però le tototracce insomma i tototemi sono tanti sulla letteratura Verga, Pasolini sulle tematiche di attualità le stragi della mafia la situazione pandemica la guerra effettivamente andiamo alla cieca perché poi esce sempre tutto quello che non ci aspettiamo Emozionata? Non particolarmente in realtà non so perché però penso che mi prenderà più là mentre lo sto effettivamente facendo l'esame Quindi la classica notte prima degli esami è passata tranquilla? È passata abbastanza tranquilla Sì E sul piano delle aspettative che cosa ti aspetti? Sono sette le tracce all'interno delle quali si può muovere l'analisi del testo l'attualità hai una preferenza oppure aspetti di vedere? Aspetto di vedere preferirei l'attualità cioè a scegliere preferire l'attualità però dipenderà tuttora la traccia credo cioè dipende molto dal tema Oggi la prima prova è quella di italiano si torna all'esame vero dopo due anni di assenza dopo due anni di pandemia hai delle preferenze sulle tracce che verranno proposte? Io sarei più orientata sull'analisi del testo perché comunque in questi due anni non abbiamo potuto scrivere quindi il testo argomentativo non penso sia una scelta adeguata più che altro perché siamo stati diciamo svantaggiati su questo punto di vista però abbiamo letto di più abbiamo analizzato più testi Qualche autore in particolare c'è il come dire Totoesame si parla di vari nomi Pasolini, Ungaretti, Svevo Vabbè quest'anno sono cento anni dalla morte di Verga quindi è probabile che esca quello settecento anni da Dante quindi o esce il paradiso o esce Verga quest'anno sicuramente Dobbiamo dire che le previsioni dei ragazzi erano in parte esatte adesso con Valeria Migliore andiamo a vedere che cosa è successo a scuola a Isernia Alle 8.30 in punto i maturandi vocabolario alla mano si sono seduti ai banchi di scuola per la penultima volta pronti ad affrontare la loro prima grande prova la traccia di italiano i liceali i liceali prima dell'inizio erano chiaramente agitati ma preparati sui temi più gettonati e ora che le tracce sono già note si può dire che ci avevano visto giusto Verga Pascoli e pandemia che tracce vi aspettate? Verga e Pascoli però non lo sappiamo e come tema di attualità? la guerra forse Pasolini dato che sono anche 100 anni dalla morte probabilmente anche Dante però penso più attualità anche vista la situazione globale quindi guerra guerra, pandemia e anche crisi economica ma sicuramente la guerra in Ucraina il Covid saranno due argomenti molto probabili poi c'era riguardo la morte di Falcone Verga perché ricorrono i 100 anni argomenti del genere comunque se volessimo fare un tototraccia quelli più gettonati sarebbero appunto Verga per i 100 anni dalla morte per Paolo Pasolini per i 100 anni dalla nascita o Montale per i 125 anni o volendo andare molto a ritroso Dante per i 700 anni e per quanto riguarda il tema libero guerra e Covid Prima prova come va? Siete emozionati? Eh abbastanza è la prima volta quindi la prima volta per tutti siamo tutti emozionati Ma che cosa vi aspettate? Eh speriamo qualcosa che insomma sappiamo però speriamo che vada tutto per il verso giusto in bocca all'uvo a tutti sempre per il meglio Domani sarà peggio? Molto peggio Bene chiudiamo la pagina dedicata agli esami di maturità e cambiamo argomento parliamo di sanità rischia di chiudere per mancanza di medici il pronto soccorso di Sernia il periodo estivo incombe e con esso le ferie dei sanitari già ridotti all'osso il servizio è di Enzo Di Gaetano Emergenza al Veneziale con l'imminenza del periodo estivo e delle ferie del personale rischia di chiudere i battenti pronto soccorso di Isernia per mancanza fisica di sanitari in servizio una situazione resa ancora più pesante dal prossimo pensionamento di un chirurgo un medico che garantiva diversi turni e dalla cessazione dal servizio di uno dei medici venezuelani bisogna fare qualcosa questo il grido d'aiuto lanciato dal primario ma sta succedendo che stiamo arrivando all'ora zero nella evoluzione degli eventi riduzione del personale impossibilità di gestire i turni fino adesso si era riuscita a sopperire alle carenze di personale i cosiddetti turni aggiuntivi ora per carenze strutturali neanche più con i turni aggiuntivi si riesce a dare risposte alle esigenze di servizio quindi stiamo arrivando al punto zero per cui diventa difficile proprio tenere aperte le strutture intanto in mattinata nuovo incontro con i sindacati per trovare una soluzione che sembra essere sempre più lontana qui abbiamo una situazione drammatica di carenza di personale in particolare per quello che riguarda i medici e siccome il bacino d'utenza dell'ospedale del pronto soccorso di Serni è molto vasto il nostro è un grido d'allarme proprio per i cittadini per i pazienti e per gli utenti incidente sulla vena frana scontrarsi un auto e un furgone all'altezza del bivio per Pozzilli tra i feriti che sono stati portati immediatamente in ospedale per gli accertamenti sul posto le squadre ANAS e le forze dell'ordine per la gestione del traffico che per un paio d'ore ha subito forti rallentamenti nella tarda mattinata la circolazione ripresa regolarmente l'assessorato all'agricoltura fa sapere che sono stati sbloccati i pagamenti alle aziende molisane per un importo pari a circa 4 milioni e mezzo di euro ascoltiamo Giovanni Di Tota I pagamenti riguardano il 2021 per gli investimenti sui giovani e sugli interventi strutturali una boccata d'ossigeno che arriva in tempi relativamente rapidi se si guarda le lungaggini della macchina amministrativa e della burocrazia un risultato ha rilevato l'assessore Cavaliere che in un momento di grande criticità la struttura tecnica è riuscita a garantire proprio per venire incontro alle esigenze degli imprenditori colpiti dal covid prima e dalla crisi energetica negli ultimi mesi sappiamo bene ha ammesso Cavaliere quanto possano essere decisivi i tempi dei pagamenti in un contesto come quello attuale ma intanto oltre alla crisi della liquidità con un aumento vertiginoso dei costi di carburante e materie prime prende sempre più nitidamente forma lo spauracchio della siccità con Caronte che tiene sotto una cappa di calore gran parte della penisola il caldo anomalo di questi giorni rischia di dare il colpo di grazia definitivo all'agricoltura e alle migliaia di aziende del settore rispetto allo scorso anno il livello del lago di Guardia Alfiera uno degli indicatori per capire se le riserve d'acqua sono sufficienti è sopra di un paio di metri ci stiamo comunque adoperando con le altre regioni a concluso Cavaliere per ottenere risposte concrete e veloci da parte del governo nel frattempo lavoriamo per ridurre al minimo ritardi e disagi per assicurare il più possibile stabilità alle aziende e quindi la sopravvivenza dell'intero comparto e adesso andiamo a Termoli dove sono state poste le basi per una nuova forma di turismo esperenziale coinvolti partner europei per unire l'attività dei pescatori alla scoperta di usi costumi e storia del territorio vediamo di cosa si tratta nel servizio di Andrea Nasillo turisti turisti sui pescherecci per conoscere l'attività per scoprirne la storia gli usi e i costumi una nuova forma di turismo esperenziale che rappresenta anche un'opportunità ulteriore di fare economia per la marineria a Termoli poste le basi nell'ambito del progetto europeo dedicato al pescaturismo Turismed Plus si chiama così e l'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Termoli ha coinvolto numerose realtà locali dagli armatori del Molise alle diverse associazioni di categoria una formula che ha delle potenzialità enormi perché i pescatori in tutto il Mediterraneo soffrono la carenza di pesce oltre a tutti i problemi correlati al costo carburante insomma capiamo bene che arrivare a fine mese per i pescatori è sempre più complicato dargli l'opportunità di avere un introito extra il pescatore è la risorsa nel mare si possa aggiungere a un equilibrio tra l'economia e il rispetto dei fondi marini che sono molto importante e questo concetto ci deve permettere appunto di far valere il patrimonio culturale che sono questi pescatori perché possano continuare a vivere di maniera degna e anche di portare e far scoprire ai turisti ma anche alle gente dei territori e tutto quello che è questa storia dei pescatori a Termoli sono arrivati ospiti da Spagna Montenegro Corsica Bosnia anche dalla Sicilia tutti i partner dell'iniziativa realtà associative o cooperative che puntano su questa nuova frontiera anche la regione Molise percorre questo cammino una forma di turismo esperienziale e uno strumento di supporto al reddito per gli operatori della pesca in Molise c'è una proposta di legge gli attori di questo che nasce nell'ottica di un turismo responsabile hanno approntato delle integrazioni e stanno lavorando sui passi normativi Tourismed Plus punta all'attuazione di un modello sostenibile di business nel settore del pescaturismo attento alla salvaguardia dell'habitat marino ma anche in grado di assicurare la continuità delle tradizioni legate alla pesca nei territori coinvolti Termoli è protagonista a Termoli io la prima volta che venivo in questa zona e sono proprio stato sorpreso tanto è bella tanto si sente bene la costa è meravigliosa e quindi ieri abbiamo visto le barche e quindi come dicevo abbiamo tutti la stessa madre il mare militerano per quello che i progetti europei lavorare tutti insieme è proprio la chiave per domani e adesso torniamo a Isernia dove scoppiano le polemiche in merito all'aumento dei costi dell'acqua e all'arrivo delle bollette del biennio 2020-2021 ci dice tutto Enzo Di Gaetano è polemica Isernia sulle bollette dell'acqua oltre all'arrivo delle fatture relative al biennio 2021 che evidentemente sono salate essendo cumulative a fare indignare gli Isernini c'è anche l'aumento del 30% per i consumi del 2022 già inviato ai cittadini con le bollette del primo quadrimestre e anche dopo l'annuncio fatto ai nostri microfoni da Tiziano Di Clemente sulla possibilità di fare ricorso gli Isernini preannunciano reclami Siamo tutti arrabbiati perché non ce la facciamo più con le spese di tutto quello che dobbiamo pagare l'immondizia perché è troppa quella là che dobbiamo pagare di acqua e cose però fino a quando ce la facciamo non lo so però il ricorso lo facciamo di sicuro però Sono arrivate le bollette del biennio 2021? Sì sono arrivate è un salasso farà ricorso e ci sto pensando vedremo i da farsi comunque sono veramente tariffe esagerate e non aumenta tutto tra i nostri pendi insomma è uno schifo non so quando si dovrà finire di pagare tutto tutto questo farà ricorso? No non credo non voglio perdere tempo con con questa gentaglia e il servizio che avete appena ascoltato era della collega Valeria Migliore non di Enzo di Gaetano rischi di fattibilità per l'edizione 2022 di Magna Storia la tradizionale tavolata chilometrica che attraversa tutto il centro storico di Isernia in discussione le garanzie di sicurezza questa volta il servizio è di Enzo di Gaetano Magna Storia 2022 corre il rischio di saltare a meno di 48 ore dalla manifestazione gastronomica programmata per venerdì sera lungo tutto Corso Marcelli una gigantesca tavolata che dopo due anni di stop per la pandemia avrebbe attraversato il cuore del centro storico del capoluogo Pentro ma quest'anno ci sono dei problemi delle perplessità sollevate dalle autorità per quello che riguarda l'accessibilità delle ambulanze o dei mezzi di soccorso nei punti più stretti di Corso Marcelli un problema superato due anni fa ma che oggi sembra essere insormontabile destando l'ira dell'organizzatore della manifestazione Evinio Izzo allora che sta succedendo a rischio Magna Storia? Siamo di fronte penso delle situazioni e forse anche persone irresponsabili noi abbiamo prodotto richiesta due mesi fa quindi nel lontano inizio maggio su questa cosa qua per due mesi non abbiamo ricevuto nessuna risposta nonostante il mio incalzare personale perché mi sapete e solo l'altro ieri si riunisce un tavolo rimandato due volte e di colpo si sono inventati che noi non dobbiamo tenere l'iniziativa in Corso Marcelli noi dobbiamo fare l'iniziativa nelle piazze cioè fare quello che facciamo tutti i giorni uscire e mangiarmi il panino come fanno tutti magari con la porchetta noi a Esernia abbiamo un tracciato storico su quel tracciato abbiamo una nostra iniziativa storica il mangiare è la seconda cosa magna storia sta per una storia grande se questo non è chiaro andranno a dire ai ristoratori che si sono impegnati con spese personali hanno riempito le stive per soddisfare centinaia di persone alle loro ristorazioni ai cittadini normali che hanno fatto in getta di beni per stare quella serie gli impegni che abbiamo avuto noi tra magliette manifesti eccetera eccetera insomma andranno a dire che questo è un fatto sociale intanto sono in corso colloquio e contatti continui tra la giunta comunale e le autorità per cercare di trovare comunque delle soluzioni che possano salvare magna storia 2022 dopo il rinvio dello scorso 9 giugno per il maltempo stasera alle 18 a piazzetta Palombo ci sarà la presentazione di ho visto i lupi volare il campo basso della serie B nel romanzo di Giovanni Di Tota che dialogherà con la giornalista Sabrina Varriano e sarà dedicata alla carrese di Porto Cannone la puntata di Millibar in onda questa sera alle ore 21 immagini interviste e commenti realizzati in presa diretta lo scorso 6 giugno faranno da filo conduttore alla conversazione ospiti dalla sede del comune di Porto Cannone il sindaco Francesco Gallo e la presidente della Proloco Cinzia Antonucci bene finisce qui il nostro telegiornale adesso le previsioni del tempo poi la linea passa ai colleghi dello sport per il TG Sport a voi tutti buon pomeriggio per il TG Sport